Buongiorno e benvenuti in questa puntata di Pillole di efficienza. La riflessione di oggi è sul tanto odiato ed amato allenamento con i pesi, l'allenamento di tipo muscolare. Perché avremmo bisogno, perché dovremmo aver bisogno di sollevare dei pesi nella nostra settimanalità, nella nostra esistenza, cosa comporta, cosa ci può portare, quali benefici può portare al nostro organismo. Andiamo per ordine. Cos'è il sistema muscolare? Il sistema muscolare è rappresentato quindi dai muscoli del nostro corpo assieme a quello scheletrico, è un apparato che permette al nostro organismo di muoversi nello spazio, di interagire con l'ambiente circostante. Ben pochi sanno però che la massa muscolare, ovvero la quantità dei muscoli che è il nostro organismo, oltre ad un aspetto funzionale motorio, cinetico, quindi legato al movimento, ha anche una funzione di tipo metabolica, metabolico-regolatoria. Non a caso è luogo comune pensare che l'allenamento con i pesi, l'allenamento di tipo muscolare, sia riservato, come d'altronde si pensa anche per quello cardiovascolare, solo a quella categoria di persone che svolgono un'attività sportiva di tipo agonistico prestazionale, o a tutti coloro che si cimentano in quell'attività di tonificazione e potenziamento muscolare in funzione di un miglioramento del proprio aspetto estetico, il classico bodybuilding, tanto in voga agno sono nelle palestre. Da questo se ne deduce che se anche proprio non ne ho bisogno, posso anche farne a meno, ovvero se non ho vellità prestazionale agonistiche e d'altronde mi piaccio come sono, non voglio migliorare il mio aspetto estetico, posso anche fare a meno di sottopormi ad un allenamento di tipo pesistico. Questo è quanto pensa la maggior parte delle persone. In realtà molti di noi, se non quasi tutti, avrebbero bisogno, non dico quotidianamente, ma settimanalmente, di stimoli muscolari di una certa entità rappresentati da un allenamento col sovraccarico. Perché questo? Dobbiamo fare un passo indietro. Allora, la composizione corporea, ovvero lo studio di quelli che sono gli elementi che costituiscono il nostro organismo, rappresentati dalla massa muscolare, dalla massa scheletrica, dalle viscere, dagli organi, dalla matrice extracellulare, dal grasso, anzi dai vari tipi di grasso, ci dice che questi elementi non sono lì fini a se stessi, statici, così come sono sempre saranno, ma soprattutto indipendenti l'uno dall'altro e inerti rispetto alle altre parti dell'organismo. Ma ognuna di queste forme organiche, se non uno di questi elementi, ha una funzione specifica all'interno del proprio organismo, ma soprattutto tutti concorrono a dialogare costantemente con il sistema nervoso e con il sistema ormonale, al fine di far funzionare come si deve il nostro corpo e porre ordine a quella che è la stessa composizione corporea o la composizione stessa, se così vogliamo dire, o meglio ancora. Il come siamo fatti, oltre che da fattori genetici, è regolato anche da fattori di tipo funzionale. Non è un caso il come siamo fatti, il come siamo fatti è l'adattamento al nostro vivere. Se il come siamo fatti non va bene al nostro organismo, lui cercherà in qualche modo di mettere ordine alla situazione con quella che si chiamano azioni compensatorie. La massa muscolare gioca un ruolo fondamentale, oltre che motorio e cinetico, gioca un ruolo energetico, metabolico, regolatorio, nervoso ed ormonale. E se la massa muscolare presente nel nostro organismo non è adeguata alla situazione, quindi non è insufficiente rispetto a quella che è il nostro peso altezza, è scarsa, purtroppo il nostro corpo sentendo questa mancanza, cioè il sistema nervoso sente che manca massa muscolare, farà funzionare il corpo in modo diverso da come invece dovrebbe funzionare. Il classico concetto io ho il metabolismo basso, non esiste io ho il metabolismo basso, non è che dall'alto dei cieli qualcuno ha detto chi deve avere il metabolismo alto, chi deve averlo basso. In realtà il metabolismo sta alto se la massa muscolare è elevata, è basso se la massa muscolare è bassa. E in una società come la nostra, nella quale 9,5 persone su 10, in particolar modo le donne hanno una situazione di insufficiente massa muscolare, capirete bene che è facile credere che non è colpa dei muscoli, ma siccome sono tutti così, quasi tutti, diremo avranno il metabolismo basso e chissà come mai. Ci deve essere qualcosa nell'acqua che beviamo, negli alimenti che mangiamo. Queste sono le giustificazioni che ci diamo, quando in realtà la situazione è ben diversa. Andiamo avanti. Nella società nella quale viviamo ci sono ben poche occasioni, così come, e lo stesso vale per il sistema cardiovascolare, scusate, per dare stimoli adeguati al nostro organismo a mettere ordine alla composizione corporea. Questo è un argomento molto interessante del quale mi sto occupando nei miei studi, perché? Perché usi e costumi di questa società, tradizioni, moduli di vivere, artificiosità, benessere, comodità, se da un lato stanno portando il nostro corpo a stare bene artificialmente, dall'altro lo stanno distruggendo sotto gli aspetti nervoso ed ormonali. E il perché lo vedremo nella prossima puntata.